Super nomadi, arrangiamento di Donald Furlano. I nomadi sono l'unico gruppo italiano che ha attraversato 36 anni di storia musicale mantenendo sempre una loro personalità. La loro musica, la loro voglia di libertà ha conquistato i giovani di allora come quelli di oggi, perché i testi hanno rabbia dentro e grande senso artistico, voglia di emergere ma anche di mantenere una propria identità. I loro pensieri volano in un'immensa immaginaria musica che trasforma la loro filosofia in versi. In questo arrangiamento di Donald Furlano ascolteremo Crescerai, c'è un re, io vagabondo e un pugno di sabbia. Crescerai, c'è un re. 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 Crescerai. 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 Crescerai.